Ecco qua 8 giugno, siamo qui presenti, il tempo non è molto clemente e piove, non piove ancora ma sta quasi per piovere, le persone sono scappate perché hanno paura della pioggia, tante persone sono scappate, Maria Cassa è stata la prima a scappare, perché lei è come una gatta, come i gatti, abbiamo anche il nostro accapone che ha mangiato e è andato via, e noi siamo felici, grazie a Dio per le varie persone, piano piano adesso vediamo quello che il Signore ha preparato per noi, ci sono le telefonate di lavoro come tutti i giorni e grazie a Dio.